A Cagliari in provincia continua a scendere il prezzo delle case. Negli ultimi due anni i prezzi degli immobili a Cagliari sono diminuiti del 4%, nell'area vasta molto di più, a quarto dell'undici, a selargius del nove, a sesto e ad assemini dell'otto. Un'abitazione comprata a Cagliari 7 anni fa per 100 mila euro, pensate ora si rivende a 80 mila, negli altri comuni dell'area metropolitana si scende anche a 70 mila e sono i dati questi dell'osservatorio federazione agenti immobiliari.